Il progetto operativo di bonifica venne presentato da Eni nell'aprile di un anno fa dal Ministero della Transizione Ecologica. Negli ultimi giorni è giunto il provvedimento conclusivo che autorizza la bonifica del centro di raccolta olio per la prezioso. In base a quanto si legge nelle carte firmate dal direttore generale della Direzione Risanamento Ambientale del Ministero Giuseppe Lopresti, gli interventi dovranno partire entro i prossimi quattro mesi. Il sito è il riferimento principale per la raccolta degli idrocarburi estratti dalle piattaforme prezioso e perla appunto. Sono stati i manager di Enimed, la società del Canasse Zampe, che si occupa dell'Upstream a trasmettere il progetto di bonifica che è stato sottoposto al vaglio non solo dei tecnici del Ministero ma anche dei funzionali degli enti preposti ancora di Ispra e Arpa che hanno rilasciato parere. Nel provvedimento autorizzativo c'è un elenco di prescrizioni da osservare soprattutto per il monitoraggio di sostanze pericolose dal centro olio. Il petrolio grezzo compiva poi il percorso verso la raffineria di Contrada Piana del Signore, oggi riconvertita con un ciclo green per i carburanti sostenibili. Devono essere monitorati anche i livelli di falda, l'eventuale presenza e lo spessore della fase separata. Inoltre devono essere effettuati campionamenti e analisi periodiche delle acque emunte dai singoli pozzi. Si legge tra le prescrizioni rilasciate dal Ministero, ora guidato da Roberto Cingolani. Il via libera al progetto operativo fa sì che aspetti poi ad Enime ad ottenere le autorizzazioni per i lavori da effettuare finalizzati appunto alla bonifica. Il progetto rientra nei programmi più volte comunicati dall'azienda. Sarà necessario osservare il cronoprogramma inserito nel progetto complessivo anche se in passato per altri interventi i ritardi si sono accumulati anche a seguito di autorizzazioni rilasciate non entro i tempi previsti. Questo è un aspetto che spesso tocca i procedimenti di bonifica che sul territorio sono fermi a percentuali basse. I vertici della gruppo Eni hanno già ottenuto l'approvazione di diversi progetti. Per alcuni di questi l'istruttore è stata spesso molto complessa. Anche la bonifica del centro olio per la prezioso rientra nel piano complessivo monitorato dal Ministero.